Venerdì 11 ottobre 2019, Crystal Serenity e Marella Dream, eccole, nel Golfo di Torrento. Appena arrivate tutte le imbarcazioni in acqua per lo sbarco di circa 1200 passeggeri. Ma oggi è una giornata importante per tutta la campagna. Abbiamo navi a Capri, a Sea Dream 2, abbiamo la grossa Royal Caribbean a Salerno e ben due navi a Napoli. Quindi è un venerdì di ottobre in cui vengono incrementate i passaggi crociristici. I pescatori nel porto della Principessa. C'è una secca speciale lì e quindi è una passione per i conoscitori. Tutto un andirivieni di paperini tra la nave e il porto. Sono arrivate già da poche orette, andando via questa sera alle 18.00. Mentre Crystal Serenity sta svolgendo una crociera che si chiama Barcellona Pireo One Way, 21 giorni. e toccherà posti straordinari come Paphos in Cipro, Cania a Creta e altre isole greche. Questa qui invece Marella Dream fa il giro Mallorca, fa tappa a Mallorca, il giro nel Tirreno Nord. Grazie a tutti.